beh sapete tutti che amo tanto viaggiare mi trovo nella parte orientale della sicilia mi trovo a siracusa e nella parte a ortigia guardate la parte storica il borgo antico come stato ristrutturato ma non ristrutturato a pezzi come la nostra città vecchia la città vecchia di taranto che è stata ristrutturata ma via duomo una piccola parte poi permane il degrado permangono i ruderi soprattutto dalla parte di via garibaldi invece occorre fare un intervento a 360 gradi che riguardi ogni punto del borgo antico vedete appunto siracusa vedete come le attività commerciali fioriscono chiamarla parte antica sembra quasi una caricatura dovremmo dire è più nuova più moderna di quella effettivamente anagraficamente più recente per cui per taranto per la città vecchia lo dico all'amministrazione non occorrono gli interventi tampone occorre un piano a 360 gradi che riguardi una riqualificazione totale totalizzante beh viaggiare serve a questo serve a imparare a fare nuove esperienze a capire che non è una rondine che fa primavera neanche qualche rondine ma è primavera quando il cielo è pieno di di rondini e nella città vecchia di taranto ce ne sono poche interventi qua e là ma tanto della città vecchia crolla a pezzi prendiamo esempio da siracusa magari confrontiamoci confrontatevi con gli amministratori locali di altre città e da tarantino mi viene rabbia adoro il sud adoro la sicilia ma la nostra taranto non deve essere da meno capito signori amministratori